Mi riscaldo un attimo e poi partiamo ragazzi partiamo subito Mi riscaldo un attimino ragazzi Ok Allora piano piano Ok Io qua sopra e qua è easy Proprio facile qua è scialla proprio Sciallissima qua la cosa La situazione qua Ed è una puttanata Una puttanata Io Tanta roba jump king Grande alley Allora qua è easy qua Non ce la faccio Ok Salti brevi In modo che cammino più veloce Ok Perfetto Ehi dai Jump king Un gioco di merda Ca troia ragazzi Che cazzo Stiamo addio Ma tu pensa la madonna lì Guarda Ok I gatti No no che gatti I gatti In questa baby Non ci sta La terza baby Ci stanno i gatti Qua Non ci stanno i gatti Qua È solamente Dai Dio Va bene Va bene Va bene E lì per forza Devo andarci dentro Proprio preciso Se no Non ce la fa lì Ok Andiamo qui Niente Devo andarci proprio preciso Su Sta lì i preti Eh Qua ci sta Le chiese Le gambane Ci sta di tutto qua Piano piano Qua Ok No Ma in realtà è una puttanata È una stronzata di merda Ma guarda là Cazzo È una puttanata Sto livello Cazzo Lì dentro il buco C'è Ma è una stronzata Della madonna Veramente Che cazzo Ok Perfetto Niente Qua non gliela farò mai Qua se voglio fare la speedrun Devo imparare a fare il salto Quello Questo qua sopra Ma È veramente Non dico che è difficile Non è impossibile Però È abbastanza complicato È abbastanza difficile È abbastanza complicato Però Dai Tutto è male Non è male Volevo prendere la scorciatoia Mi è andato C'è con il cazzo Che te sei in gola Cado Come fai a cadere C'è sto livello È veramente Per Bambini Per bambini Questo C'è Nella fine Se cadi Su sto livello Raga Ok Non parlo più Cazzo Oh Vabbè Che bucio di culo Allora Matteo però Che scarzo Io scarzo Sì Perché non hai mai giocato A jamming Allora Se dici che sto scarzo No Cazzo Volevo via la scorciatoia Se dici che sto scarzo Per lo mio Non hai mai giocato A jamming Allora Mo non è Per tirammela Però Diciamo che non so Scarzo Scarzo No Dai Se vuole morire Scherzà Scarzo Scarzo Non credo Sei scarzo Ma che cazzo Dici scarzo No No Chi dice che sto scarzo Raga Perché Boh È un buffo De merda Grazie mille Grazie mille Smoke Carba Grazie mille Bello mio Grazie Grazie mille Seed original Grazie mille Bellissimo Sei misiere Sub Grazie mille Grazie mille Smoke Arba E Hydro 100 bits Grazie mille Time Lord 24 Grazie mille Pure a te Subscribe Grazie E qua E qua non mi ricordo Com'era Qua com'era Ragazzi Appena si fermava Dovevo andare tutto a destra Appena si fermava il vento Ora Eh non mi ricordo Qua com'era Era così Qua tutto Eh perché Diciamo che non è che mi ricordo un granché qua Vabbè qua preferisco non prendere la scorciatoia Qua Preferisco farmela così Ok Eccoli i preti Dio padrino La prima baby l'ho platinata praticamente Non mi ricordo quanto tempo fa però Qualc'era St'estate L'ho platinata L'ho platinata L'ho platinata La prima Senza mai cadere Con le scarpe Con tutti i tipi Le scarpe L'ho platinata Eh non mi ricordo Ecco il ghiaccio Bello eh Ok Perfetto Perfetto Ok Che fai di che tuo cugino Tuo cugino è più forte È impossibile Ok Dai siamo belli caldi Siamo belli carichi Belli precisi Easy Eh vabbè Vabbè So coglione So coglione Io ragazzi So coglione No Cazzo Io Vabbè Qua sti sarti Io me Mi rimangio a colazione Qua sti sarti Talmente facili Ragazzi Che ormai Li sono fatti 100.000 volte Li sono fatti Qua sti sarti Io Dai Non ti dico Bendato Però Non ti dico Che lo faccio Tutto bendato Però Ci si può provare Easy Easy Woo Yo Come fanno a fare Speedrun Su sto gioco Del merda Ma che dici Impossibile Facciamo pure la seconda baby Prima di fare la quarta Faccio un ribasso generale Poi vado a fare la quarta Direttamente alla quarta Mi fate Mi fate un prediction Seconda baby Vado direttamente alla quarta Faccio la seconda La quarta Un sondaggio Per favore Un pull Importante Andando Pianco d'acqua Arrivo Mod morenti Sveglia 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 mandar Ma che var r Che dicono Ah direttamente la quarta Ok Mi spiagge ragazzi Mi spiagge deludervi Ma farò la seconda Me devo scaldare Se ci metto più di 20 minuti raga però basta Cioè devo mettere meno di Meno di 30 minuti Meno di 30 minuti ragazzi Perché per fare la quarta baby ragazzi non è facile la quarta baby Quarta baby non è facile Non è facile un dito in culo Ok Ok Eh vabbè allora so coglione io Eh lo so ragazzi guarda Mi dispiace Mi dispiace che insomma Volete vedere la quarta baby ma Prima faccio questa Non è una questione È una questione mia personale Cioè De mentale Ragazzi È una questione mia mentale Però se ci metto più di mezz'ora Lascio perdere Ok easy Andando qua raga È tutto facile Easy Stra easy Qua Yo Vai Ok Che poi io Eh In realtà La quarta baby Quarta baby ragazzi non è difficile la quarta baby È un problema che i salti non so come farli Cioè Non so quello che ci sta sopra E non so quello che ci sta sotto Non so che trovarmi Cioè in realtà è una cazzata Cioè Cioè se la fa A finirlo Però Poi ci sta la quinta baby Che Mi hanno detto che è quasi impossibile Per non parlare Delle varie modalità Tipo Questo livello qui Tutto quanto in invisibilità Ovvero senza vedere niente Cioè Come cazzo fai Non ti dico che è impossibile ma Non ti dico che è impossibile Ma Diciamo che Non è Dei più semplici Ok Se è una cazzata finisci Ma non dico che è una cazzata ragazzi Però Non è facile eh Jump King non è facile ragazzi Veramente Cioè chi l'ha giocato raga Non Cioè chi l'ha giocato sa già Che non è una cazzata Jump King Cioè Finire Eccola là Ok Questo video è gentilmente offerto da Level up Una bevanda energetica Pensata per i gamer E di altissima qualità Povera di zuccheri Facile da preparare Apri lo shaker Acqua Metti un misurino Shaker E gusta A meno Di un euro a porzione Con il codice sconto Pano Link in descrizione raga Cioè Chi dice che è semplice Che cade apposta Cioè Io voglio Io voglio parlare con gente Che Che l'ha finito Perché se c'è sta gente Che dice che cade apposta Raga Allora c'è qualcosa Che non mi torna Perché Significa che sto stupito io Ok Ok Perco Dai Dio Cristoforo Colombo Adolorato Vaffanculo Su Gioco del cazzo Che gioco di me Che gioco Oh Gioco di merda Gioco di merda Gioco di merda Oh E dai su Ma sto sulla neve Ma sulla neve cado Ma sulla neve E quando arrivo dopo Che cazzo facciamo Io Soffice come una biuma Io E lo preciso Io Soffice come una biuma Dai Soffice come una biuma Dai Vai Soffice Ok Perfetto Vai Che casca apposta Non è vero Non cao da apposta Porco Diavolo Guarda la madonna E mi si fatto confondi Fa un culo Torco dio Io non voglio bestemmiare però Non bestemmiare mai Dai su Perché mi tocca Ma perché È brutto bestemmiare Ragazzi È bruttissimo Bruttissimo Bestemmiare è la cosa Più brutta del mondo Mannaggia Matteo Mannaggia Te Mannaggia Te Eh scusate Ragazzi Scusate Non volevo Porca madonna Porca madonna Porca madonna Porca madonna Allora Concentrati Matteo Vedi Cioè Se sbagli Sti salti Significa che Non stai caldo Significa che Non sei caldo Se sbagli Questi salti Di merda Questa è tutta Quanta È tutta È tutta Pratica Serve per la Pratica Qua Mi serve per la Pratica Perché se sbaglio Se sbaglio Questi salti Significa che Ehm Significa che Non sono caldo Devo Ok 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 La scorsa volta con donne qui i peccati su questa baby perché qua tipo sbagliavo qui e la neve sbagliavo la neve ok sbagliavo la neve questa parte qua io sbagliavo tantissimo ok eccola là eccola là dio padrino dai ma te che dopo ci sta la cosa del del vento su sopra ma perché sbaglio perché grazie mille athena ciao bello grazie mille athena ciao bellissima grazie mille grazie mille anche a pano 97 buono ma te mi piace troppo jamming grazie 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 mille bellissimo grazie mille allora allora qua perfetto ok 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 quarta baby quarta baby dopo ragazzi prima devo fare qua il coso prima senza vedere vabbè certi salti ragazzi ormai sono memoria certi salti non è che già che ci vuole certi salti ragazzi cioè talmente facili non look hs allora qua appena finisce il vento ora in realtà qua si può fare pure la scorcia d'oia però vabbè ok qua non è facile entrare dentro il buco ok perfetto mio cugino lo fa corp... oh eh 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 si cazzo eh mi sono sbagliato corpisello eh mi fa piacere per tuo cugino se gliela fa farlo corpisello io... io non gliela faccio io non gliela faccio ok il tuo cugino con tre palle dal primo tentativo lo finisce addio padre ok e qua non è facile eccola là che musica drammatica e vabbè è proprio... è il gioco che è proprio fatto così ragazzi è fatto apposta proprio per fatte... per fatte piale peggio madonne no? per fatte piale peggio madonne allora jump king è top in quello ecco la parte più la parte più orribile da dire ah ok 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 No Ok E allora sei coglione Carca troia Questa parte è veramente un dito in culo Questa parte ragazzi Questa parte è veramente È veramente un dito in culo Questa parte qui ragazzi Del livello qua Io ci ho messo un botto qui Ma ci ho messo un botto perché Sbagliavo sempre sullo stesso punto Dai cazzo A parte qua Basta che sbagli un salto E torni da capo E' quello il problema Qua sbagli un salto raga Torni sotto la neve Vabbè Ci ho fatto quattro salti No due salti Devi sbagliare due salti Per tornare la neve in realtà Beh forse pure tre Ecco Ecco il primo E dai Dio Cristo Poi sta canzone Te mette proprio ansia Capito Te mette proprio ansia No Dai che Palle Se sbaglio i camini Se sbaglio i camini raga Poi sulla quarta baby Li sbaglio Quindi Meglio che mi alleno qua Sui salti I camini Che la quarta baby Che poi dopo Che poi la baby La quarta baby Ragazzi Non è Non è uno scherzo Meglio sbagliare qui Meglio sbagliare qui Ecco Stavo per sbagliare Stavo per sbagliare qui Ha scritto uno Che la quarta Che la seconda baby È più difficile Della Della quarta Ma che cazzo stai a dire Cioè Sulla quarta Sulla quarta baby Ci stanno Salti Con Salti precisi Ci stanno tante meccaniche All'interno del jump Che stanno C'è il ghiaccio C'è La sabbia C'è il super C'è il super vento Talmente difficile C'è il super vento C'è la sabbia C'è 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 la sabbia La sabbia mobile C'è la neve C'è stato di tutto Su quel cazzo Del livello De merda Finirlo Di avere i coglioni Sotto proprio I coglioni Proprio pieni Di avere Madonna Sono me Per finire Jumping Niente C'è Vuole palle piene Palle piene Perché C'è proprio Una voglia Meglio questo Zitto Perché dopo Di farmo il gioco Guarda Allora Ma in realtà Non è che faccio Salti C'è In realtà Non è difficile Jumping Ragazzi Come gioco In sé per sé C'è Penso che ci siano Giochi molto più difficili Jumping Cioè Poi dipende Dal tipo De modalità Eh Fantasma delle nevi Ha detto che Jumping In scala Da 1 a 10 Ehm Fare la prima baby Da 1 a 10 È 6 Porco Dio A mo A mo Me lo fai calà Eh A mo Me lo fai calà Però eh Che cazzo Non volevo Queste mia Però Allora Non citare altri Streamer Non li dovete citare Cazzo Allora Concentrati Concentrazione Serve più concentrazione Devo star concentrato Sono salti del cazzo Questi Semplicissimi Allora Penso Ok Sono entrato In modalità Dryharding Ok 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 Qua Dai Cerchiamo a definire Sto cazzo De livello La vicina A pecorino Questo video E' gentilmente Offerto da Level up Una bevanda energetica Pensata per i gamer E di altissima qualità Povera di zuccheri Facile da preparare Apri lo shaker Acqua Metti un misurino Shaker E gusta A meno Di un euro A porzione Con il codice Sconto Bono Link in descrizione Raga Marco Dio Scusate Non volevo Queste mia Però Perché bestemmio Con jamking Cioè Solo jamking Surgiammi Vada Non mi dite Che cadevo apposta Perché guarda Veramente Non mi dite Che cado apposta Perché guarda Veramente Gesù Cristo Che dito Nel culo 910 9Y Take care X Suta Dai raga Va bene Shers Darema Porco Dio E' difficile Davvero Sto gioco Io mi sono Glocato A metà Quasi Del primo E partono Le madonna Dogni Tentativo Te se vuole Bene mate Eh lo so Lo so Che è difficile Lo so Che è difficile Secondo me Scala da 1 a 10 Scala da 1 a 10 Jamking Esistono Secondo me Esistono giochi più difficili Del jamking Secondo me Non lo metto in dubbio Quello è indiscutibile Però secondo me Scala da 1 a 10 È un Che boh Un 9 e mezzo Dai Facciamo 9 e mezzo Porco cane Qua è tutto invisibile Dai però Se gli do troppo E non va bene Se gli do poco Porca troia Non va bene Che cazzo Devo fare io Cazzo Dai Va E qua Va a sentimento Va qua Sta parte qua Va a sentimento Va a sentimento Ok Dai Cristo Dio Anticristoni Mi fa prende Porca Eva No No Troppo Porca Eva Dove sta Sta lì Sta Oh Che troia Sta valendo Porco Diavolo Oh E dai Oh Oh Malone Sei stupido Oh Sei stupido Sei Ok Ci provo Ok Sta lì Ok Lo visualizzo Ok lo visualizzo Perfetto Che dito nel sedere Che dito nel sedere Che dito nel sedere Che cazzo Ok Vabbè A mo' Ci sta il serpente Il serpente di Cristo Che quello è Un bel dito in culo Questo è un bel dito in culo Ok Dio porco Dio porco Dai Però Io non voglio bestemmiare Non voglio bestemmiare Ma non bestemmio mai Cazzo Non bestemmio mai io Mai Perché mi fai dire Le bestemmie Gesù Visualizza Ok Visualizza Ok Io Visualizza Ok 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 Pensavo avrei sbagliato qua Qua non è facile Porco dio Ok 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 Dio padre onnipotente Creatore Del cielo Ok La gravità non è facile qua eh La gravità Ah poi c'è pure di mezzo la gravità Sulla quarta baby è vero che quella pure Ha un bel dito nel sederino O no non c'è non mi ricordo se c'era Ok 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 No porco la Porco ladro no 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 Porco dio però Mo lo tiro eh Mo lo tiro Eh cazzo Me l'hai fatto tirare però eh Eh Io non volevo vestemmia però Eh ma tu me fai vestemmia figlio Lo streamer non è un vero lavoro Tu cadi apposta Eh lo so Io cado apposta Una madonna Dai Mamma mia raga No no Oh Oh Ma come cazzo è possibile che so cascato di sotto Perché Lì non è il primo Il secondo Oh Non mi è mai successo Mai successo di cascare lì Giuro Allora qua Marco Oh e dai Ok Qua Secondo veredino Ho sbattuto Non Ma non so come Qualcosa di Fenomenale Perché non so come cazzo So So cascato Ok Ok Dai Ma si può essere così Veramente Speciali C'ho i nervi a mille Perché c'ho C'ho pure i tic su C'ho pure i tic su Qua sull'occhio Su le pappe Per me sta bene Edi-ca 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 Ragiona Calma E ragiona Ok Calma e ragiona Ok Perfetto Ok Piano Ancora Sto gioco di merda Gioco di merda Guarda Va bene tutto Va bene tutto A me basta che non mi ritorni sotto Solo serpente Te prego Basta che non mi ritorni a serpente Perché se ritorni a serpente Poi dopo me incazzo Guarda va bene tutto Va bene tutto Guarda va bene che cado qui Va bene che cado qui Se cado qui va bene Basta che non cadi sopra La torre e quella Phantom Tower lì Di merda Quella è veramente difficile Quella lì Non devi cascar ma te Oh Gesù Cristo Ok Siamo arrivati The Dark Tower Oh Cazzo Ma va a fa un culo Vai Emo A destra A destra No Aspetta Aspetta Qua è impossibile Qua è impossibile Aspetta 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 A destra Aspetta 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 A me non me ne fai un cazzo Io la finisco Io la finisco Mette scopo a pecora porca puttana Non vedo l'ora che arrivo su sopra Mette zippo a pecora porca puttana Ma frega un cazzo Io sta baby qua La vicina A pecorina Ma che cazzo non mi ricordo I salti non mi ricordo porca Troia ma porca Eva Ma 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 me pare normale una cosa del genere Oh no Oh no no oh cazzo ok Ma me pare normale E dai Ma questo non è Non è che dici Oh È una cosa normale È una cosa normale Ma che cazzo è normale Ma che è normale Ma era una puttanata questa Me la ricordo che I tempi la sono fatta In speed run L'avevo fatta in speed run Questa l'avevo fatta in Meno di 15 minuti Cazzo Me pare Non erro Ai tempi Ai tempi che Che furono Perché adesso È da un botto di tempo Che non la faccio più Però È lì non mi ricordo I salti Questo video è gentilmente offerto da Level up Una bevanda energetica Pensata per i gamer E di altissima qualità Povera di zuccheri Facile da preparare Apri lo shaker Acqua Metti un misurino Shaker E gusta A meno Di un euro A porzione Con il codice Sconto Buono Link in descrizione Ok 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 Eh perché Allora Prendo il ritmo Dal respiro Ragazzi Io quando respiro Tengo il respiro Poi prendo il ritmo Lì Sì che cagata De merda Che ci fa Tutti Guarda Orco Gesù Cristo Guarda Adolorato Cioè Penso che sia Più facile La terza baby Che sta madonna Oddio Dai La terza baby Era una puttanata Di quelle proprio Assurde La terza baby La quarta È più difficile Dopo La quarta È veramente Complicata Complicated La quarta È veramente Difficile Questa è una puttanata Proprio Da quelle Proprio Stratosferiche Qua Qua se perdo Qua ragazzi Se perdi qua Significa che sei Proprio Un abbaccio Proprio Cioè se tu Sei capace Di tornare sotto Il serpente Lì Vabbè A parte che ho Sbagliato quel salto Perché non lo sapevo Ovvero Non me lo ricordavo Cioè mi ha fatto il troll Cioè mi ha fatto il troll Dai 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 Ammo te rompo Ammo te spacco eh Ma come si fa Ma come si fa È una cazzo Di puttanata La prima volta Che lo feci Sto livello Dopo tre minuti Già avevo capito Come cazzo Se faceva Una gravità Di merda Tanto Sulla quarta baby Il problema Non è la gravità La sabbia Perché io già Mi sono visto Qualche pezzo Della quarta baby E vi assicuro Che è un Dito nel sedere A parte Penso che Chi guarda Le soluzioni Come si fanno I salti Sta proprio lì Il bello The jump king Cioè Non Non guardare Le soluzioni E scoprire Tutto da solo Perché se Guardi le soluzioni E i salti È brutto Cioè te rovini il gioco Te rovini il gioco Perché il gioco è quello È Cioè È bello Anche perché Sbagli Sbagli E ricominci Cioè Quando so brutto Quando gioco Porca Eva Quando so brutto Ciao a tutti Sbagli Dio mandarino Ecco in questo momento Io vorrei un mandarino Allora Ok Mi dai la tua figa rumena bagnata Ma a me non me ne frega niente Si si rumena A me che me frega si si rumena Mi basta una cosa sola Un tipo di figa non mi piace a me Non posso dire il nome Non posso dire il quale Poi la figa Cioè le fighe sono tutte uguali Quindi cioè alla fine Cambia un po' come è fatta Un po' di curiosità Sono curioso però Il sapore e l'odore è quello Ma come cazzo sarti Porca diavola Ma come sarti Ok Fandom Tower Dark Tower Allora Quattro Stai vicino a Pegorina! Raccaddiava la morte, lo sapevo io, Dio Padre! Karma? Ok, quindi lì al centro devo andare per forza, voglio stare altrimenti Vaffanculo Dio Piano, 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 Matteo, piano, piano, ok? Ok Qua è bastardo sto salto, eh? Porco di Dio, porco di Dio, porco di Dio, porco di Dio Porca Madonna Porca Madonna, guarda Allo Karma Ok Qua Qua è un cazzo Vabbè O a destra e a sinistra è uguale No, a sinistra no, con un cazzo che ti è in culo che ci vado A sinistra prima mi ha giangulato, a sinistra Eccola là A sinistra prima mi ha giangulato Porcazzo che ci vado Fanculo Porco Dio, porco Dio, porco Dio, la cosa invisibile della porca Madonna, porco Dio Porca Madonna, porca Madonna, o al porco di Dio E me sbaglio E ci sta le madonne invisibili Ma che è a posta? A posta da che? Da che? Ma che è a posta? La Madonna Porco Dio, porco Dio, porco Ma non me ne frega niente a me della figa rumena Ma che me ne frega a me della figa rumena Ma non è che la figa a me mi dà la testa, eh Cioè Ci sta qualche persona che ci prova ancora che Però io non c'è casco mica Sto tanto bene A me l'unica cosa che mi rende felice Lo screaming Che cazzo me ne frega a me che la fregna Non so se ti ricordi un vecchio saggio detto Cadi, 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 cadi Se cadi poi ti rialzi però, eh C'era un vecchio saggio che diceva Quando cadi ti devi rialzare E tornare più forte di prima Madonna, c'ho un cazzo di parpidio al cuore Ok, il problema Sapete qual è il problema adesso? E che adesso? Purtroppo C'è Sotto c'era la sabbia mobile Ok, che andava piano E poi adesso invece Torna Che te Dio, padre onipotente De Cristo Addolorato De signore Santissimo Piano ma te Qua perché non è È una gara È una puttanata Però devi andare piano Devi andare piano Perché qua Ogni sarto Ci può stare la sorpresa Ti trovi la sorpresa E poi dopo Eh, dopo E dopo Dopo tra pingulo Eccola là Piano Eh, non è facile Eh Però diciamo che sto in Non parlare Zitto, 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 zitto Diciamo che sto in safe zone qua Perché dando Ecco Eccolo qua Qua sto in safe zone diciamo Come se fosse una safe zone Come se fosse il Ecco Qui invece no Qua è difficile Ok Porca Porca di quella droga Ok, lì al centro Dai ma te Carco Diavolo morto Dai Al centro Lì Ok Allora Lì Questo salto Di merda Qui devi stare attendo Che ci sta l'uscivolo Dio padre Da Vaffanculo A te E a chi dammi andato Gioco Mi Lì Sì, sì, sì. Questo video è gentilmente offerto da... Con il codice sconto... Pano! Link in descrizione, ragazzi. Terza baby? O guarda la quarta? Terza, quarta baby? Terza, quarta baby, ragazzi. Fate un buon mod. Terza, quarta. Grazie mille! Red Vanic, 100 pizze, grazie mille, bellissimo. Ah, come è cresciata la live. The Arban, grazie mille, grazie mille, Zitamirco. Quanto, c'è enorme, grazie mille. Grazie mille, Francis Diero. Grazie mille, Mr. Mike Chioppo. Grazie. Il ciccio pensa a tre mesi del sub. Bella Vittode, se vuole bene. Urla men bono. È buono! Ok, mo lagga. Mo lagghicchia. Mi ha dato una laggata di quelle... Grazie mille. Grazie mille, Andre. 55, 84, grazie mille. Dammaschetti, 03. Grazie mille, Dera. 3 sabbi, 26 mesi. Ti auguro buon anno e buone feste. Grazie mille. Grazie. Essasino, 08, grazie. Anche a te. Yo. Vai con la quarta, yo. Con la terza. Da solo? No, l'ho tolto il stream di squadra, o no? Ah, abbandonata la squadra. Scusate, ma è vero. Eh, me sono sbagliato. Scusate. Ero sbagliato. È troppo alto l'audio di gioco. Ok. Quarta baby, raga. Faccio fast. Yo. Bella precisa. I gatti. Ci sta... Le cose. È la quarta, raga, perché... Voglio un attimo allenarmi. Cioè, nel senso... Lo so che l'ho fatta l'altro giorno, la quarta, però... Devo arrivare al punto di fare prima, seconda, terza e quarta. Perché se no, se faccio la quarta diretta... Non... Non gliela faccio, se non sto caldo. Devo stare caldo per riuscire. Devo essere bello caldo. Se no, non gliela se la fa. Eh, qua, tanto è impossibile far zatto lì. Tanto va sempre a finire sotto. Grazie mille. Legend sub. Tre mesi ere sub. Grazie mille. Bellissimo. Grazie. Un bacio enorme. Grazie mille di tre mesi. Ma in realtà posso pure mettermi... Le... Le scarpette, però... Vabbè. No, è l'anello più che altro. Che scarpe. L'anello. Che anello le scarpe? Altro che... Ok. Orco cane. Vabbè, cercate di far prima, ragazzi. Cioè, più che altro. Solo per quello. Ok. Piano piano. Daie, cazzo. Che c'è vuoi qua? È su. Madonna. Sandissima. Gris. Dovevo vola. Su. Grazie mille. Great taxi. Ciao bello. 16 mesi ere sub. Arco. Urca. Che culo. Ah, qua posso pure saltare in tutto. E vado a finire lì sul... Ok. È perché non me lo ricordo, ragazzi. Cioè, non me ricordo sta roba. Sta roba in realtà non me ricordo come si fa. Però... L'unica cosa che dovete sapere di sta baby, ragazzi, è che se sbagli solo una volta... Caschi, torni da capo. Sbagli una volta, torni da capo. Ok. Più che altro è... Diciamo... D'allenamento. D'allenamento sta baby, perché in realtà l'ho fatta 3 milioni di volte. Neh. D'allenamento arcazzo, ma te. Ercazzo. Ercazzo d'allenamento. Ercazzo. E se ricomincia da capo. Eh, niente. Grazie mille. Bastiale 1. Grazie mille 8 mesi ere sabbia. Grazie mille anche a X e fragua. Grazie mille. Bellissimo. Grazie. Dai. Su, che voglio finirla. Su. Madonna. Dopo di qua ci stanno i gatti. Ai gatti è facile, cioè, non è. Ma in realtà questa è una puttanata, cioè. Solo una questione del tempo. Del tempo. E' un bistico in realtà. Alla quarta baby. Ma se siete cuci curiosi di vedere la quarta baby. Siete cuci curiosi proprio. Ragazzi, in realtà ci vuole preparazione. Non è che vado a cucire la quarta baby. Tan, subito. Ci vuole, ci vuole preparazione. Non è, non è semplice come tanti pensano. Cioè, che tu ti metti lì, fai la quarta baby. Te svegli la mattina. Ah, che bello, faccio la quarta baby. Non so in quanti l'hanno finita la quarta baby. Preparazione di che? Ragazzi, la quarta baby non è uno scherzo, raga. Dai, che cazzo. C'eri. Dai, che palle. Se ne comincia. Niente. Niente. C'ho un ring qua. Senza ring, raga, ci metto troppo. Non volevo, ma... A quanto pare. Non volevo, ma... Vabbè. Qua se non fai... Se non vai così... Qua non ne la farei mai. Regis, vai. Io. Madonna, mo' sto rompendo... Di nuovo il tasto, lo rompo. Rompo di nuovo il tasto. E purtroppo, ragazzi, se non faccio così, è... No, che... Dov'hai, por la madonna? Porca droi, ci sta la gravità. Ma dov'hai? Eh, mi sono sbagliato. Eh, porco Dio, avro morto. Mi sono sbagliato. C'era la gravità. La gravità di Cristo. La gravità del Cristo. Eh, porca troia. Dai, mi sono sbagliato. Cosa fa il ring? Allora, il ring praticamente... Te permette di... C'è un'altra... Cioè, in realtà, per platinare il gioco... È un altro jump king, ragazzi. Con... Con il ring. Con il ring è un... Il ring praticamente ti permette di scivolare... E andare più veloce. Ti permette di scivolare. Più dopo, se fai saltini, vai tanto più veloce, vai. Serve per fare le speed run, queste cose qua. Per andare più veloce, vedi? E sulla sabbia mobile ti muovi... Invece che andare fermo... Invece che muoversi fermo... Sulla sabbia... E vai veloce. Vai più veloce. Però c'è dei pro e dei contro. Ora. Io, raga, ho finito la prima baby. Con tutti e tre le cose. Sia con le scarpe... Che con... Che con il ring. Ma la seconda, raga, vi assicuro che non è uno scherzo. La seconda. E la terza, ancora peggio. Ci ho provato. Ci ho provato per un periodo. Ci ho proprio traiardato tantissimo. Ma non è la stessa cosa. Non è... Ehm... Raga, è un nuovo jamking. Non è... Non so come spiegarvelo. È talmente difficile. Ma fermo di perciò sono ferme. Non ho capito. Allora, calma. Fammi un attimo pensare. Ok. Pensiamo. Per effetto. Mi raccomando, Matteo. Ricordati che stai con la gravidà. E allora sei proprio coglione. E allora sei proprio coglione. Cambio telefono ogni due giorni perché non trovo mai il pulsante home. Ok, easy. Ora vi faccio vedere che serve. Praticamente serve per andare più veloce il ring questo qua. Te permette di andare più veloce come se fosse tutto quando è ghiacciato, no? Però c'è dei pro e dei contro. Ok. Tu, 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 tu. Easy. Vai. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Qua è easy. Qua. Cioè, addirittura posso fare pure occhi chiusi. Qua, cioè. Vabbè, ho proprio occhi chiusi no perché è abbastanza complicato, ragazzi. È abbastanza complicato farlo occhi chiusi. Però occhi chiusi no. E io la chiamo gravità però te fagate apposta. No, no, non te fagate apposta. Fidate. È tutta questione di skill. Non è, cioè, non te fagate apposta. Porco ladro, mi sono dimenticato. No, te prego. Orco Dio, se. Orco Dio, mi sono sbagliato. Mi sono scordato che lì non era tutto. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Non è un problema, ragazzi. È Jump King. Non è un problema. Non è un problema. Dai, però, porca troia. Non è un problema. Fin quando siamo qui. No, no, ti prego, no, ti prego. Cristo Dio. Cristo Dio. Dai, dieci minuti su sta cazzo di parte, non se può. Ma quanto faccio schifo, ragazzi? Quanto faccio cagare? Dai, ma te, mamma mia. Cazzo. Dai. Non è che è noiosa sta parte. Più che altro, te fate il ta, te fate il ta, perché, cioè, è talmente facile. Sbagli per il misplay, e allora sei proprio stupido, ma te. Ok. Racco, cane. Ok, qua sotto c'è la sabbia, perfetto. Questo video è gentilmente offerto da... Level Up! Una bevanda energetica, pensata per i gamer, e di altissima qualità. Povera di zuccheri, facile da preparare. Apri lo shaker. Acqua, metti un misurino, shaker, e gusta. a meno di un euro a porzione, con il codice sconto, BANO! Link in descrizione, raga. E' la tua preferita, dove sta la parte con la musica. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tan, ta, 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 ta. Quella è la mia... Quella là, invece, è la parte più semplice. Ho sbagliato per colpa mia. Ma tu pensa. Già stavo ai gatti. Io già ero ai gatti, ero. Allora, o non so capace. Eh, se no, non si spiega Perché sbaglio? Ok Mi manca il respiro, raga Cioè, giuro Manca il respiro perché Cioè Mi mette proprio Una cazzo di ansia sto gioco Qua Eh, vabbè, allora Porca troia, dillo Ok Piano piano Uno Due Ok Cioè, se non riesco a fare sti salti Ragazzi, come cazzo pretendo Devo le fare La terza La quarta baby La quarta baby Se non riesco a fare sti salti Cioè Una cosa Dai, su Ok Ah, cazzo Quando è un po' sbaglio, eh Guarda tu È l'ansia Questa è l'ansia È l'ansia Perché c'hai paura di sbagliare C'hai paura di osare Cioè Io ho paura di osare Cioè Fare troppo Andare troppo Ho paura di fare troppo Allora Vado Faccio Sembra un belletto in più Oppure un belletto in meno Perché in realtà Il salto preciso è questo, eh No Un po' de meno Allora Qua Dai, però Che cazzo Ok Un quarto d'ora Per fare la parte Per fare sta parte Allora significa Che proprio sto Sto proprio Rincoglionito Rintronato Proprio stupido Ok Non è un problema No, no, no Che, che Sto facendo il ripasso Fantasma delle nevi Ripasso Che, che, che Achievement Ma che Achievement No Io l'ho abbandonato L'Achievement Ah no Tu sei più forte Da me Sei più forte Da me Non ci sta Niente da fa Ma proprio In qualsiasi gioco Fantasma delle nevi Sei più forte Da me A prescinde Io sono Una mezza peppa Te sei più forte Da me Per forza Donna Cioè Te faccio i complimenti Perché hai finito Tutte le baby Sei stato veramente forte E veramente bravo Ma Non ce la faccio Ci ho provato Ci ho provato Ai tempi Ci ho provato Ma era Era troppo Troppo Ammo sto a fare un ripasso Per poi andare a fare la quarta Però È un dito nel sed... No, vabbè No No, ti prego Ok Sì, vabbè Ha fatto la quarta baby Prima che ne farsi una mappa Cioè L'hanno nerfata Cioè Che vuol dire L'hanno nerfata L'hanno nerfata Perché Come l'hanno Che vuol dire Che l'hanno nerfata La Era la quinta Quella la Com'era C'era Ho visto una baby Fantasma dei nevi Non è che era nerfata Era Al buio Mi pare, eh Se non erro Era tutta buia La prima baby Al buio Credo che era Non mi ricordo Quante baby Ci sono? Allora Fino a Fino a Fino a Fino a Erano Erano tre Tre Però Ecco Farle tutte e tre Con tutte le bandiglie Chi In mente Era bella tosta Era bella tosta Era Molto tosta Ah In realtà sono cinque Sì sì adesso sono cinque Ah qual è la Cioè quella dell'ascensione no? Credo Baby of the ascension E poi ce ne sta un'altra che non mi ricordo qual è Non mi ricordo qual è Ciao Lori Ciao bello Ciao bellissimo Tanto muo' arriva gli gatti tra poco Mua Esatto 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 Con la versione plus che tipo i fan L'hanno creata credo Che fan l'hanno creata Io aspetto Cioè non so se I creatori fanno uscire Tipo qualche altra baby stanno a far uscire Non lo so se ci hanno in mente qualche altra baby Boh Non lo so Oh Ok O magari un Jump king Due C'era un online Mi pare Mi pare che avevano detto che metteranno Un jump king online Boh Io ancora non l'ho visto Poi praticamente giochi con altre persone E altri player possono farti cadere Eh Miau Eh ragazzi qua non è Non è Non è una cosa semplice qua Porca trota Se ci sarà la possibilità Organizzerai partiti con i sub Ehm Ma in realtà Le facevo Mi piacerebbe organizzare un torneo d'erson Non tra i sub Perché tanti non partecipano Perché non c'hanno le carte E tanti dicono che sono scarsi Allora lo volevo fare tra i creator Tra i talent Però organizzare un torneo del genere Significa Cioè Follia Poi dove il cazzo lo casti Sul mio canale Sarebbe figo Fare un Un torneo con tutti i streamer D'Airstone A capo no Ti prego Ok 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 Fado a me un attimo Gonggio andrà qua Qua è semplice qua Qua è sinistra Oh Dio Oh Dio Lo fai apposta Ma che faccio apposta Sì Ma fatelo La fantasma delle nevi Che sta in chat Che è un pro player Oddio Pro player Pro player Tecnicamente parlando È la persona Che guadagna soldi Tramite Eeeh Tornei E cose Cioè Non Il Lato competitivo De sto gioco Non Non esiste Se l'hanno messo L'hanno messo da poco È più un gioco del cazzo Così For fun Però peccato Perché Porca troia Ma come cazzo Ma come cazzo te ne fate Fa con gli stivali E l'anello Ghost of the baby Madonna Quello è follia Vabbè Fantasma delle nevi Perché è un folle Platina tutti i giochi Tutti Dai però Come cazzo fai E non prenderlo Eccola là Allora Concentriamoci Niente Grazie mille Alimdor Ciao bello Un bacio enorme Grazie mille Xfraua Della Sabba E Matteo 10 25 48 4 mesi E le Sabba Grazie mille Ciao Matteo Purtroppo sono un orfano Cambio telefono Ogni due giorni Perché non trovo mai Grazie mille Ok Doi Dito in culo Allora Perfetto Io Ok E dai Che voglio fare La quarta Baby Su Cazzo Madonna No ti prego Che palle No Raga Ammucchio Mi sa Che ammucchio Ammucchio Eh Mi sa Eh Mi sa Che ammucchio Si ma La quarta È difficile Ragazzi Lo volete Capire Che la quarta È difficile L'altro giorno L'ho provata Ma non è Che è difficile Più che altro È noiosa perché Se caschi una volta Devi ritornare da capo No da capo Da capo no Però Da capo no Però Allora qua Ragiona Questo video È gentilmente offerto Da Level up Una bevanda energetica Pensata per i gamer E di altissima qualità Povera di zuccheri Facile da preparare Apri lo shaker Acqua Metti un misurino Shaker E gusta A meno Di un euro A porzione Con il codice Sconto Bano Link in descrizione Raga Doi Orca miseria Allora È facile È facile È facile Oh Dio Dio Cristo Il 31 Che porterai Farò Il cenone Con tutti quanti I collaboratori Volevo invita pure Qualche fan Però Trova persone Con terza dose Tambone fatto Tutto preciso Eh Non è facile Organizzare tutto Organizzare Questo covid Raga È un problema Veramente Dai Qua è una Puttanata Fatta talmente Tante volte Qua Che veramente Guarda C'ho Al volto Scomodo Oggi Cristo Poi oggi Con quasi Ottantamila Casi Porca Troia Appunto Io non so Nemmeno Se organizzare Che stavo a fare Le cose Per andare Per andare A Milano Eh ma Non lo so Se ci vado A Milano Volevo fare Live IRL A Milano Ma Troppa Pura De prendere Il covid Troppa Alla fine Se sto Attento Forse Ci si può Andare Dai Se può Fa Però devo Stare attento Mascherina Gel Ok Ok Il salto Più difficile Ragazzi Per Secondo me Questo qua È Questo Che ho fatto Appena Adesso Quello È molto È molto Rottinguro Perché basta Che sbagli Un minimo E poi dopo So cazzi Cioè Leggiadro Come Ok Mamma mia Guarda Ok Perfetto Eh no Eh Il viaggio Alle cinque terre Purtroppo Ragazzi Non lo farò Eh Ho scammato Tutti Ragazzi Vi ho scammato I punti Eh Vi chiedo Scusa Ma purtroppo Non posso Più farlo Perché Quest'estate Ho avuto Da fare Con Col trasloco Tutta quanto All'estate Non potevo Proprio Assentarmi Manco Una volta Poi ci sta Il covid Ehi 200 punti Ah mo Per 200 punti Raga Non more nessuno Dai Mo 200 punti Non more nessuno Ok La terza baby Qua Il problema La terza baby È la torre finale Qua Vi ho trovato Il segreto Qua Il trucchetto A tutto Ok 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 Perfetto Vai Tutta una tirata Yo Ok Madonna Il cuore Il cuore Il cuore Il cuore Il cuore Il cuore Come mi batte il cuore Come mi batte il cuore Raga Non mi batte mai Oh porco Dio Lo sapevo Dio Che sfiga L'ansia Ansia 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 Cazzo che ansia Porca Troia Che ansia Raga Che ansia Che ansia Ansia L'ansia sui videogiochi Raga È per quello Ragazzi Che È quello Che me frega È quello Che me frega Stavo a dire È l'ansia Il gioco Che mi ha fatto Più divertire Il gioco Che mi ha fatto Divertire Più Allora Divertire Se parli a livello Di divertimento Proprio Il gioco Che proprio Mi piace Di più TFT Eh TFT Mi piace TFT Lo amo Lo adoro Anche faccio schifo Ragazzi TFT Lo amo Di più Proprio tantissimo Poi Airstone Ai tempi Perché adesso È cambiato Airstone Non mi piace più Non è che è cambiato Non ci sta più La competitività Su Prima se facevano i tornei C'erano più Più cose Cioè se facevano più cose All'interno della community Proprio Riuniva La community Era Era molto più bello Giocare a Airstone Capito Aveva Tra piccolette C'aveva senso Però adesso Ho mollato Perché Cioè Quando hanno smesso De fare i tornei Ste cose Ragazzi Alla fine Non Un attimo Madonna Ragazzi Che nervi C'ho i nervi Guarda Porca Eva Non gliela faccio Non gliela faccio C'ho i nervi A mille Non gliela faccio Non gliela faccio Non gliela faccio Perché Non gliela faccio Veramente Oh Mi piglia l'ansia Mi piglia l'ansia Ragazzi Cioè So capace De finirlo Ed è pure Una buttanata Ma mi prende L'ansia Non gliela faccio A respirare Non gliela faccio A respirare Ragazzi Proprio Mi manca All'aria E lo so No Mille volte No 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 Ti sbagli No Mille volte L'ho finito Sei volte Mille no È proprio La meccanica Della sabbia Che non ho capito Cioè Boh Vado Vado a sentimento In realtà Quando faccio Quella parte lì Della sabbia Vado molto A sentimento Ragazzi Molto Perché non so Non so come funziona Cioè Non so come indirizzare Il personaggio Cioè Uncine panettone No Ieri l'ho portato Uncine panettone Ragazzi L'abbiamo fatto ieri Ieri Porca troia Che risate Che mi stavo a fare ieri Che puttana L'unica cosa Che mi dispiace Del Del watch party È la gente Che non c'è L'amazon prime Che non Cioè Insomma Che rimane Tagliata fuori Allora Preferisco portarlo Magari Che ne so A fine serata Ok 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 Dai Facile Facile Concentrati Concentrati Eh Bravo Bravo Dai Dai che ce la fai Dai Non è puttanata Dai Fannaffangulo Fannaffangulo E andate a fare il culo Grazie mille Grazie mille Lavro Grazie mille Bellissimo Della sub Grazie mille Anche Alex Drag 24 Sas Grazie mille Sire sub Ciao bello Eh C'ho la frega al culo È quello che me frega Il fantasma Orca troia Cioè Cioè Eh Jumping per me Raga Odio e amore Odio e amore La ruota Eh sì sì è vero La devo creare C'hai ragione Devo creare la ruota Senti io quasi quasi abbandono Perché non nemmeno faccio Io quasi quasi abbandono Beh lo dicevo pure prima in realtà Che abbandonavo No io mi sa che abbandono Sono un cazzo di perdente Mi dispiace raga Sono un perdente ma La terza baby è Guarda Ma non è difficile Che sti cazzo De salti Porca troia I salti Con la sabbia Con la sabbia Nel culo Poi io non so Il fantasma De nevi Come cazzo Ha fatto Con le scarpe Anche Con il ring In realtà Con il ring Pure è bello tosto Certo che platina Jumpking Secondo te Il fantasma delle nevi Non so se stai ancora in chat Platinare Jumpking Platinarlo Non finirlo Platinarlo Quanto è difficile Da 1 a 10 Rispetto ad altri giochi Che magari È o no Il gioco più difficile 10 senza dubbio Se lo platini Guardi che ti sei scazzato Che ti sono cascato I peli del culo Esatto Da 1 a 10 Ragazzi È il gioco Più difficile Sulla faccia Della terra E poi Il fantasma delle nevi È un ragazzo Che gioca A tutti sti A tanti Sti giochi Cioè Gioca dalla mattina Alla sera E se il fantasma delle nevi Dice che C'è il più difficile Ragazzi Finire la terza baby Secondo me È da 1 a 10 Il livello di difficoltà È tipo 8 8 8 Non è il più difficile Per me Dai Stagazzo Dei 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 Madonna Qua Io Non te fa piare La fregola Ok Piano E E E E Allora Sei coglione E Allora Sei coglione Sei coglione Dai Ci provo L'ultima volta E basta Perché Veramente Cioè Cioè In realtà Non è che Non so capace È proprio È solo la sabbia Che non so come cazzo Si salta Sulla sabbia Cioè Anche se ci penso Sbaglio comunque Perché Guarda Mo C'è il ritorno E ci penso Ci penso Cioè Cerchiamo di Capire come cazzo Funziona Ma tanto è impossibile Perché non si capisce Non si capisce Niente Non si capisce Grazie mille Boys 1908 Sei mesi Dele sab Ciao bello Grazie mille Tanto non si capisce Niente Cioè Non è che dici Ci ho provato Una volta A mettermi lì A cercare Di capire Come funziona I salti Come si fanno Ma Cioè Niente La sabbia Ragazzi Per me Bisogna andare un po A intuito Questo video E' gentilmente Offerto da Level up Una bevanda energetica Pensata per i gamer E di altissima qualità Povera di zuccheri Facile da preparare Apri lo shaker Acqua Metti un misurino Shaker E gusta A meno Di un euro A porzione Con il codice Sconto Bano Link in descrizione Raga Ok Piano Allora Qua Qua tanto è tutto Qua è a tutto Qua pure No Qua non è tutto Qua è un po' Ecco C'è devo pensare Ok Qua è così Qua è easy Ok qua Ok Piano 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 Ok questo si chiama Sapete come si chiama questo? Buscio del culo Ok Ok Piano Piano Ok Ok piano piano Va Allora dai Piano A tutto Ok Ok piano Resetta 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 Non ti deve venire l'ansia Ma te Non devi venirti l'ansia L'ansia Ansia no Niente ansia Io Ok Niente ansia Io No I miss click Del cazzo Miss click Del cazzo E questo è un miss click Ragazzi Questo è un miss click Che pure è bello grosso E vabbè Oh miss click E io mi sa che Sto svegliato Bello mio No No Ok Ultima volta Dai Questo non era Non era un tentativo Ragazzi Cioè nel senso Era un tentativo Valido Però mi è scliccato Dai Non vale Non vale come tentativo Ragazzi Cioè Cioè Un bel tentativo Che cazzo ne so C'ho provato Ma Mi sclicca È considerato Come tentativo Eh no Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Basta Eh vabbè Eh vabbè